eccomi qui sono luca giurato sono molto contento di essere qui con voi oggi sono molto molto felice mi piace molto stare qui tra la gente e tra le persone del mondo sono molto allegro spiato e mi piace molto parlare con la gente ciao amico mio come stai come va la vita tutto bene mi piace come parli mi piace come ascolti mi piace tutto di te io sono così mi piace tutto e quindi mi piace tutto stare la gente come stai michele coruza come stai che le coruza il caro amico michele coruza che mi dici di bello sei tanto bello io ti amo mi piace da morire sei stupendo io ti amo mi piace da morire sei un mito io ti stimo michele coruza come stai e il tuo amico come stai io ti amo e ti voglio bene sei un mito caro amico io ti voglio bene ti stimo tanti amici ho e possiedo quindi non posso dire di altro io spero che nel prossimo futuro diventerò più bello più affascinante e più semplice con le donne ok ok ora parlerò di te caro amico michele coruza come va tanto bello mi piace mi piace anche quello che dice pippo bauro bauro come stai pippo allora come va la vita ti piace bella vita bene mi piace pure a me io sono tranquillo felice e molto spiegato oh ecco qui abbiamo anche un altro amico un altro ospite speciale eccolo qui si chiama l'ex premier silvio berischioni come stai l'ex premier silvio berischioni mi piace molto bene perfetto perfetto oggi con noi c'è un ospite speciale si chiama il si chiama il famoso nuovo presidente mario monti come sta presidente mario monti tutto bene la vita come va le sorride perfetto e così va bene va bene ok mi posso pure disgiungere da voi amici della web tv e un caro saluto dal vostro luca giurato grazie